Musica Rieccoci nuovamente con la rubrica Glam Pack Wom presso la Galleria L in occasione del quarto anniversario della scomparsa del maestro Franco Batacchi proponiamo la terza parte di un'intervista realizzata qualche anno fa per conto dell'associazione culturale Iris di Marcon Cos'è per lei la Venus Italica? La Venus Italica è l'elemento che ha caratterizzato questi ultimi 15-16 anni del mio lavoro diciamo quello assolutamente principale che mi ha fatto anche conoscere insomma in giro abbastanza credo ritengo che nel corpo femminile siano chiusi i segreti della geometria poetica cioè non la geometria quella che si impara alle scuole medie ma la geometria superiore che è quella del grande equilibrio delle cose del mondo e siccome il grande equilibrio dipende poi da simboli anche geometrici il cerchio e il quadrato o volumetricamente il cubo e la sfera ebbene nel corpo femminile c'è sia l'ortogonalità e sia la curva perfetta ecco questo è facile per me è stato facile per arrivare per sintesi successive a scoprire questo simbolo che mi ha affiorato tra le mani praticamente lavorando e che poi ho scoperto anche confortato dai giudizi critici naturalmente di personaggi estremamente autorevoli come Luciano Caramel come Mario Brusatin come tanti altri che hanno individuato secondo me molto giustamente l'origine di questo simbolo addirittura nella preistoria negli idoletti che si trovano negli scavi che sono ritrovati negli scavi del Paleolitico le dè e i madri bravo, le dè e i madri i simboli, la madre terra e gli idoletti che celebravano la fertilità però questo io l'ho sintetizzato con un segno che credo sia inconfondibile mio e ho cercato di mentre facevo all'infinito questa forma la cercavo, la cercavo eccetera mi accorgevo che stavo adottando atteggiamenti manuali gesti che erano gli stessi appunto dei ragazzi che lavoravano con le bombolette sui muri ecco cioè la velocità applicata però a un segno sogno che ha radici antichissime allora adesso io questa figura la uso come un alimento praticamente supero anche il fatto di che cosa vuol dire perché alla fine deve funzionare deve ogni volta concorrere se lei guarda io ho fatto tanti quadri può guardare nelle monografie eccetera non trovo uno uguale all'altro perché non è tanto la raffigurazione che interessa ma l'uso di quella figura in un contesto compositivo molto più complesso e allora diventa diventa come un personaggio che appare in un contesto e allora è importante il contesto quanto il personaggio insomma interagiscono a me piace tanto sperimentare poi adesso da quando appunto non ho più il problema di cosa inventarmi quadro per quadro sto dilagando nei materiali lei punta su una materia ma la lavora con mezzi e mezzi tradizionali in parte che cos'è allora per la tradizione? ha significato? deve essere rinnovata? la sente propria? no, rinnovata sempre cioè non esiste una tecnica che resti ferma lo stesso affresco che io utilizzo in realtà non è più l'affresco di prima perché io mica posso staccare dei pezzi di muro e portarlo in giro per il mondo io la prima fase l'ho sostituita con la tela grezza che non gli do la preparazione così tutta la tramatura della tela molto grossa mi fa da riccio e su quello stesso l'intonaco dopo su quello faccio proprio l'affresco su questo solo che siccome poi si lavora anche per divertirsi cioè non è vero che il lavoro dell'artista sia una dannazione allora mi è venuto in mente che perché usare soltanto colori a tempera e robe di questo genere allora io li mescolo con sabbie che mi faccio mandare da posti diversi e che a volte le utilizzo senza neanche colorarle perché per esempio dall'Etna mi arrivano le sabbie nere e io il nero non ho bisogno di colorarlo ed è meraviglioso perché intanto perché è eterno naturalmente queste sabbie laviche e poi perché hanno una loro brillantezza non è mai nero davvero nero il nero è opaco di solito ad affresco non si dovrebbe neanche mai usare invece questi hanno proprio una loro vivacità interna per cui anche il nero diventa colore allora tu sfrutti queste cose e appunto ti diverti e il risultato poi è anche migliore senza dubbio quando ero molto giovane invece tendevo a questo tendevo a grattare tutto in maniera che restasse più evanescente difatti Zanzotto ha scritto di una delle mie cose dell'epoca che arieggiavano ad antichi affreschi lui dice giustamente ma non è più così perché ho capito che non è giusto non è giusto e allora tanto è vero che quando in queste cose che faccio ad affresco mi accorgo che c'è troppa indeterminatezza intervengo alla fine sopra con dei segni con dei particolari fatti addirittura ad olio sopra e non quindi quasi sempre diciamo che nel 90% dei casi la mia pittura è tecnica mista sempre io intervengo con varie idee finché arriva un risultato che mi soddisfa io ringrazio il maestro Franco Batacchi per averci aperto il suo studio e averci dato così la possibilità di conoscere che cos'è per lui l'arte e soprattutto la possibilità di poter sentire dalla sua voce quale è stata la sua carriera